Buonasera Il flash di prepartita, Crotone Virtus Francavilla, nono turno Serie C, Girone C, tutto pronto allo stadio comunale Ezio Scira Tra 20 minuti si gioca e queste sono le formazioni che scenderanno in campo Per quanto riguarda il Crotone, Branduani, Cuomo Golemic, Pasquale Giannotti, Alessio Tribuzzi, Crialese, Augusto Scarbo, Luca Calapai, Cosimo Chirico, Teo Filusawa, Marco Tuminello A disposizione Andrea Dini, Gattuso, Maxin Giron, Bove, Guido Gomez, Bernardotto, Vitale, Vasile Mogos, Papini, Luis Rocas, Panico, Pannitteri Allenatore Franco Lerda Risponde Virtus Francavilla con Avella, Ida, Miceli, Patierno, Caporale, Pierno, Risoleo, Ceccia, Cisco, Ecuban, Minelli A disposizione Negro, Romagnoli, Giorno, Cardoselli, Maiorino, Di Marco, Perez, Mastropietro, Solcia, Eiesi, Carella, Macca, Elian, Allenatore Calabro Tutto pronto dunque, tra qualche minuto si gioca e appuntamento per M91 Crotone, Tacquino Flash di Antonio Milano per il nono turno Crotone Virtus Francavilla, linea allo studio